Eccomi, eccomi qua. Allora, come va? Tutto bene? Buongiorno, grazie. Allora, oggi parliamo di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale ne abbiamo parlato fino adesso. Io ho seguito tutti i vari speech, perlomeno nelle ultime ore, e ognuno ha portato la propria visione. Secondo me sono tutte davvero molto interessanti, avete fatto bene ad ascoltarli tutti, anche perché solo così ci si può fare un'opinione, si può avere poi un'idea, anche perché siamo di fronte ad un cambiamento straordinario, vi hanno raccontato di cosa si tratta. Nessuno, mai compreso ovviamente, ha la sfera del cristallo per sapere cosa sta succedendo. L'unica cosa certa è che ci facciamo tutti delle domande. E le domande più frequenti sono queste. L'intelligenza artificiale può mettere in pericolo l'umanità? E l'altra domanda è questa, ma i robot e l'intelligenza artificiale, che è un po' al centro di questa giornata, porteranno via il lavoro a tutti? Ovviamente le domande sono tra le più frequenti che anch'io raccolgo, tra quelle che mi arrivano ogni giorno, tra segnalazioni, truffe e grandi dubbi sul futuro. Un'altra domanda è sull'etica, perché chiaramente uno dei grandi problemi è la digicrazia, cioè ovvero una società guidata dal digitale. Ce l'ha l'etica? E soprattutto quale etica? L'intelligenza artificiale mette in pericolo la democrazia? Questa è un'altra domandona. E alla fine di tutto c'è forse quella più importante, cioè come tenere l'uomo al centro. E allora, per rispondere a queste domande, dobbiamo tener conto di una cosa molto importante che avete colto durante questa giornata, che è un mondo complesso. È un mondo molto complesso. È un mondo difficile da capire sino in fondo, perché dietro ci sono talmente tante tecnologie che davvero non si sa da che parte iniziare. Sono tante. C'è chi parla di algoritmi, c'è chi parla di reti neurali, c'è chi in qualche modo tiene conto anche di quello che c'era stato fino adesso, cioè la complessità del digitale, che già lo era. Internet, il web, i social network, è tutto quello che c'è dietro. Ma il vero grande pericolo dell'intelligenza artificiale, di cui tenere conto, secondo me è uno solo. Ed è questo. Cioè, il pericolo più grande è chi la sottovaluta, da ogni punto di vista. Dal punto di vista delle opportunità e dal punto di vista dei suoi pericoli e criticità. Però facciamo una pausa, un secondo. Capiamo insieme che cos'è l'intelligenza artificiale. Perché spesso si parla di intelligenza artificiale, ma poi alla fine che cos'è, no? E per capire che cos'è l'intelligenza artificiale, forse bisogna prima chiederci che cos'è l'intelligenza. Allora, l'intelligenza è un insieme strano di fattori di ogni tipo, no? Ci sono dentro discorsi, materia, biologia, cultura, c'è un po' di tutto dentro parole, segni, cooperazione sociale, c'è dentro la comunità, la tradizione, il nostro patrimonio. Insomma, se ci pensate, i nostri neuroni non hanno niente a che fare con quelli computazionali, con i bit. Non proprio non si parlano, sono due mondi profondamente diversi. E allora perché si parla invece di intelligenza artificiale? Beh, innanzitutto devo dirvi, io ho scritto un libro, si chiama Cyberumanesimo, poi vi dico due parole in più su questo, perché già dal titolo si capisce che l'uomo deve essere al centro, ma la prima cosa è che secondo me non è l'intelligenza artificiale, oggi non siamo di fronte a un'intelligenza artificiale, siamo di fronte a la comunicazione artificiale. La comunicazione artificiale è completamente un'altra cosa. Cioè, si tratta, avete già sentito parlare di questi termini, no? L-L-M, L-M-M, Large Multimedia Models, Large Language Models, cioè linguaggi che raccolgono un mucchio di informazioni, le mettono insieme generando qualcosa di simile all'intelligenza. Ma è comunicazione. Dietro di intelligenza non ce n'è. Sono pappagalli stocastici, che tranquilli, non è una parolaccia, pappagalli statistici, che cercano di indovinare statisticamente la parola dopo, la frase dopo, ma lo indovinano sulla base di cosa? Di una grande, enorme quantità di dati. E quindi riescono a fare anche cose straordinarie, di cui noi magari facciamo un po' fatica, no? Ancora a capirle, ad andarci d'accordo, ma riusciamo addirittura oggi a ottenere cose così. Questo è un mio video, dei vari, che faccio spesso sui miei social. Se non mi seguite, seguitemi. Marco Camisani Calzò è su tutti i social. Ed è in italiano. Possiamo alzare il volume, per favore? Certo, c'è anche una base di grado. Niente di che. Ok, a un certo punto dico, sì, però io vivo a Londra da 15 anni, lo voglio in inglese. Si sente poco, perché c'è rumore, ma lo traduce così, con il labiale perfetto. Wow, fa pensare che dietro ci sia dell'intelligenza, ma in realtà non c'è. L'intelligenza è una cosa che funziona con dei meccanismi simili al nostro apprendimento. E questi strumenti non sono simili al nostro apprendimento. Sono diversi. Han bisogno di training. Han bisogno di essere istruiti, di essere allenati. L'intelligenza che invece non ha bisogno di essere allenata, ha un nome e si chiama intelligenza artificiale generale. Ok? Artificial general intelligence. E allora questa sì che è diversa, perché questa che arriverà e sta arrivando, non ha bisogno di training, e impara con le stesse logiche con cui impara il nostro cervello. Quindi è in grado di riprodurre gli stessi output. Un po' come un bambino, cresce, impara il mondo e piano piano va avanti. Ok? Ma dietro cosa c'è? Dietro, amici, ci sono delle scatole nere. Dietro ci sono dei mondi in mano a terzi. Spesso aziende di altri stati, che magari alcuni ci vogliono meno bene, altri un po' più bene, a seconda. Il mondo è grande. Sapete che poi oggi viviamo in un momento di grandi tensioni politiche. E quindi chi decide quello che viene fuori? Chi decide quello che scrivono queste intelligenze artificiali o ancora di più queste forme di comunicazione artificiali? E a volte lo sappiamo, a volte no. Perché se chiedete a OpenAI, che è una di quelle che oggi è più famosa, perché è la proprietaria di CIGPT, vi risponde che nemmeno loro sanno come fa a produrre certi risultati. E qui sta la grande differenza. Ma c'è di più. C'è una cosa che si chiama singolarità. La singolarità tecnologica arriva da, deriva come termine, come definizione, da Einstein, con la sua teoria della relatività generale, dove sostanzialmente diceva che c'è un momento in cui la fisica non ha più le risposte, perché si va oltre. E questo momento è quello che accade da un buco nero in poi. Non sappiamo cosa c'è dopo. Tutto cambia. La nostra conoscenza della fisica si interrompe lì. E allora, anche nella singolarità dell'intelligenza artificiale, questo è il next, che potrebbe arrivare oppure no. Cioè, potrebbe succedere che si generi un'intelligenza artificiale in grado di apprendere, non come noi, non con le stesse logiche, ma con logiche che non abbiamo mai visto prima e di cui non siamo padroni. Ok? Arriverà? Non arriverà? Non lo so. Gli esperti si confrontano. Nel libro io ho cercato di spiegare chi la pensa in un modo e chi in un altro. Una cosa certa è che tutto questo sta avvenendo molto velocemente. Non possiamo non tenerne conto. Non a caso il tema principale di questo festival quest'anno è questo, no? E credo che i vari ospiti vi abbiano dato tutti i punti di vista. soprattutto perché non tocca solo il mondo del lavoro di cui adesso vi parlerò, ma tocca tutto e tutti. Ci tocca da ogni punto di vista. Tocca le piccole e medie imprese, tocca le piccole imprese, tocca le grandi. Le grandi ovviamente sono più preparate, ma le piccole un pochino meno. Già facevano fatica a star dietro al digitale, che fino ad oggi ci ha rincorso. Ha modificato il modello di business di molte aziende. Ha modificato anche il modo di lavorare. Chi oggi può pensare di lavorare senza conoscere parte del digitale? Almeno parte. È evidente. E con l'intelligenza artificiale ancora di più. E allora, oggi, già oggi, tocca settori come la sanità. Sono più di 50 anni che l'intelligenza artificiale nella sanità, nella diagnosi, nella diagnosi per immagini esiste. Non è una roba nuova. Immaginate ora che salto sta facendo. Vengono scoperte nuove cure grazie all'intelligenza artificiale. Si possono... Aiuta l'assistenza sanitaria è un mucchio di cose. Ma un altro aspetto straordinario, prima di parlare dei pericoli o dei rischi, è anche come renderà tutto più inclusivo. Pensate che oggi esistono strumenti che pensano. Allora, guardate questo piccolo dispositivo che non è automatico. Cioè, non fa sempre lo stesso verso. Ma riconosce la faccia, il volto dell'utente che va bene per persone con disabilità che non riescono a nutrirsi, a mangiare da sole. E questo chiaramente solo a guardarlo fa venire il sorriso. Solo a guardarlo fa pensare alla positività e a cosa sta portando. Soprattutto perché non parliamo più di stranezze da laboratorio, ma di cose che sono già disponibili sul mercato. E come sappiamo più ne venderanno e meno costeranno. E quindi con 300 euro presto si potranno avere cose di questo tipo. Così come sono già disponibili protesi che consentono grazie all'intelligenza artificiale di arrivare a questo livello di precisione. Sino quasi a mondi molto molto distopici. Come per esempio Neuralink di quel matterello di Elon Musk che ha detto aspetta investo anche su questo. Cioè interfacce digitale cervello mosse dall'intelligenza artificiale. non è futuro è presente questa roba la fa già c'è qui dentro chi dirà wow e chi dirà oh my gosh come dicono gli inglesi oddio che paura e secondo me avete ragione tutti e due ma non per fare democratico perché è proprio vero e questo signore qua è stato il primo ad avere veramente l'impianto e riesce il mouse che vedete muoversi lo muove con il pensiero ok cioè lui muove gli occhi pensa di cliccare e lui clicca è un mix tra eye tracking e e clicking e pensiero e tra un po' le prime sperimentazioni sugli animali purtroppo hanno portato a fare a ottenere risultati incredibili cioè non sono un medico e non un neurologo però per semplificare c'è un momento in cui in alcune forme di paralisi il cervello non riesce a comunicare con la parte dei neuroni cioè dei neuroni ho detto che non sono un medico dove sono esperto si sente la differenza con la parte no del come si dicono come si chiamano i nervi nervi grazie no eh chi offre di più grazie no no quindi con i vari nervi sotto e allora immaginate questo che trasmette questo che riceve elabora i segnali e fa camminare chi non cammina tanta roba e poi cos'è che sta arrivando loro bello brutto questi robot che faranno parte della nostra vita come oggi fanno parte della nostra vita gli smartphone quando li vediamo fare queste attività queste sono fake sono finte questo video che vedete non è vero ma ci siamo molto vicini ok perché sarebbe stato complicato riuscire a fare un video di questo tipo ma non ci siamo non siamo molto lontani capite che le cose cambieranno e ovviamente spero facendovi vedere tutto questo di aver suscitato in voi un mucchio di domande un mucchio di come dire di no di alert come avete presente nel telefono o nei computer quando fa blum 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 pericolo virus aiuto problemi bello bello ma problemi e in effetti gli aspetti positivi però è in dubbio sono sono tanti sono tanti chiaramente non sono accessibili a tutti e questo è un altro problemone perché evidentemente in un mondo in cui quelle sono le opportunità vedere che c'è una parte del mondo o anche una parte del nostro paese non connessa dispiace no oppure che non può accedere a certe tecnologie così come un altro problemino giusto per incominciare a entrare nel tema delle potenziali criticità è il tema energetico sono sono tecnologie energivore succhiano tanta energia con quello che significa perché ancora nel pianeta non abbiamo imparato a produrla in modo sostenibile perlomeno sappiamo come si fa ma non come farlo fino in fondo e quindi questo è uno dei primi dei primi temi dei primi dei primi problemi e poi arriva quello al centro l'elefante in questa in questa su questo palco lo vedete è qui ed è questo è il lavoro no allora io qualche idea ce l'ho però perché dirvi che saremo sostituiti dai robot è facile bisogna però avere qualche idea nel senso che ognuno di noi ce n'è una e io volevo sottoporvi la mia allora sicuramente i robot saranno economici rispetto a un parcheggiatore pagare quel robot lì costerà meno di un parcheggiatore all'anno e come sapete bene le aziende sono tutte analogiche tutte un po' lente nell'innovare sino a quando non tocca il portafoglio appena tocca il portafoglio improvvisamente quando costa molto meno tutti diventano digitali tutti diventano innovatori perché è evidente che con robot che oggi sono in grado di fare queste cose e queste non sono finti questi sono veri e c'è un problemino di cui dobbiamo tenere conto cioè questo pulisce le toilette ma non in modo ripeto automatico riconoscendo quello che sta facendo e allora questo è un robot casalingo che in realtà quello che vedete non è il vero robot è la fase di addestramento cioè gli stanno insegnando a svuotare la lavatrice a svuotare a riempire la lavatrice scusate la lavastoviglie prima a fare delle cose in modo che lui anche se cambia la lavatrice cambia la lavastoviglie sarà perfettamente in grado di farlo wow wow da una parte oddio dall'altra e nell'industria ci sono già nell'industria lo sapete che ci sono già sono robot intelligenti prima erano robot adesso sono robot intelligenti in grado di capire cosa fare e i big che oggi ci vendono gli smartphone che oggi ci vendono i software stanno lavorando a questo e questo ce lo vogliono mettere in casa bene allora quindi i robot e l'intelligenza artificiale ci sostituiranno o no allora io penso da quel che sto vedendo già ora perché già ora c'è una trasformazione in corso dal punto di vista del lavoro che i primi che verranno sostituiti sapete chi sono sono quelli che non usano l'intelligenza artificiale cioè tra un avvocato che usa l'intelligenza artificiale in modo corretto e uno che non la usa quello che non la usa sarà sostituito per primo dall'intelligenza artificiale su questo non ci sono dubbi perché perché chiaramente serve l'uomo è importante che l'uomo ci sia a controllare perché abbiamo detto che non sono intelligenti cercano di indovinare quindi se indovinano sbagliato è un problema però vuoi mettere avere un assistente in grado di fare una lettera di diffida così quindi l'avvocato che fa la lettera di diffida utilizzando l'intelligenza artificiale e utilizzando la sua competenza per verificare che sia giusta sarà più potente più performante sarà aumentato nel modo giusto perché l'uomo ha aumentato il futuro e anzi noi vogliamo che sia l'uomo aumentato il futuro perché vedete le aziende che producono tutto questo non ce l'hanno questa etica ma non perché sono cattivi perché non ce l'hanno nella loro mission la loro missione è quella di vendere prodotti e mantenere alto il loro mercato fine ma non perché sono cattivi perché proprio gliel'hanno è la loro natura c'è anche scritto di solito nelle missioni sociali nelle missioni aziendali e allora fatemi fare questo paragone arrivano le macchine e gli automobili sulla terra sono belle van veloci c'erano prima i cavalli andavamo a piedi lascia perdere l'inquinamento un attimo se no non usciamo più no? e che si fa? siete pro o contro? ma certo che siamo pro ci cambiano il modo in cui ci possiamo muovere sono straordinarie ma serve il codice della strada perché altrimenti sbattiamo tutti l'uno contro l'altro perché altrimenti veniamo investiti anche quando non usiamo l'automobile infatti ci sono le vittime del digitale anche quando non usano il digitale se qua c'è qualcuno di voi che non è sui social sappia che è sui social perché se io parlo di voi sui social e qualcuno dice sì ha una bruttissima camicia è vero ha una brutta camicia e ci sono cento commenti che dicono che ha una bella o una brutta camicia voi siete sui social anche se non ci siete per cui oggi siete in digitale tutti siamo tutti online ok? servono regole gli aerei non sono straordinari come si fa oggi senza aerei? ma ci sono delle regole delle norme che regolamentano anche l'interruttorino ok? perfetto chi le decide queste regole? e qui si apre un enorme mondo perché già prima già prima di questo problemone già prima vi ricordate cosa succedeva prima? ve le ricordate le elezioni di qualche anno fa e cosa è successo negli Stati Uniti? il digitale è sempre stato uno strumento di potere molto forte i social network sono più importanti e più potenti di presidente di nazione l'han dimostrato negli Stati Uniti con le elezioni scorse con Trump bene o male ma fatto sta che hanno dimostrato di essere più forti come fa uno a vincere le elezioni se non è sui social se viene chiuso se Twitter gli chiude i rubinetti e allora cosa deve fare? egli deve voler bene però loro vogliono dei risultati vogliono delle cose c'è un mondo lobbistico l'intorno pazzesco immaginate oggi con l'intelligenza artificiale con lo strapotere che ha e siamo di fronte all'anno con più elezioni nella storia ci sono 2 miliardi di persone che vanno a votare con 64 paesi e sapete qual è uno dei problemi più grandi? non solo che alcuni devono fare amicizia e quindi come si fa a dire che dobbiamo regolamentare una cosa quando quelli non vogliono perché poi dopo chi è che mi vota? c'è un problemino si fa fatica chi lo fa oggi è una specie di eroe l'Unione Europea che si è permessa di farlo ha incominciato a stabilire già un regolamento adesso ve ne parlo ma nel frattempo c'è un altro problemuzzo nella nostra società noi adoriamo la democrazia no? spero tutti e l'abbiamo combattuto per averla e sapete che se andiamo avanti così la democrazia è rischio perché quando non sappiamo più cos'è la verità quando dubitiamo di tutto anche di un video non sai più se è vero se è falso ma addirittura incominciamo a dubitare della realtà quando c'è qualcosa di vero il fotografo che ha fatto la foto di Superga con ha preso l'allineamento continuavano a scrivere che fosse falsa ed era vera si perde il senso di tutto la voce può essere clonata l'avete visto prima l'ho usato in modo propositivo ma può essere usato in modo negativo e questo è un enorme problema gigantesco e in più chi è che regolamenta sta roba beh facciamo delle leggi no? come il codice della strada eh sì però le macchine se io faccio le leggi in Italia le macchine in Italia devono andare in quel modo rispettando quella regola e quell'altra non possono arrivare macchine virtuali dall'altra parte del mondo magari da un'isoletta o da una penisola con un dittatore che non ci vuole bene oggi sì quindi io regolamento tutto e poi il dittatorino della penisola che decide in italiano di diffondere deepfake per rovinare la nostra democrazia per inquinarla lo può fare perché viviamo in questa roba qua che si chiama long distance nationalism noi non viviamo più nella nostra nazione noi viviamo in parte in altre nazioni abbiamo amori online lavoriamo online c'è chi vende online qua dentro c'è chi compra online c'è chi come dire è influenzato i nostri figli guardano video che arrivano dall'altra parte del mondo e culturalmente che dovrebbe essere alla base della cittadinanza siamo influenzati dal mondo è grande quindi l'AI Act che è appunto il regolamento europeo è una sorta di ottimo straordinario colabrodo ma non perché potessero fare di meglio anche in Italia l'abbiamo c'è adesso un disegno di legge bellissimo io anzi bellissimo scusate alt disclaimer come si dice io ho partecipato sono uno dei tredici del team della team della comitato che ha aiutato a capire e a come dire interpretare tutte le esigenze come ad aggiornare la strategia italiana sull'intelligenza artificiale che poi la politica ha preso e ha fatto disegno di legge quindi però buono cioè abbiamo fatto non grazie a me grazie agli altri dodici uno straordinario lavoro però tuttavia non basta o sempre meglio vedere dei fiotti che escono da un da un colabrodo che è un fiume in piena però dobbiamo saperla questa cosa quindi quando ci dicono quando qualcuno dice ma non possono fermarlo ma è possibile che circolino tutti questi fake ho capito che ti fermi ma se ci pensate già oggi e sono sicuro che qua è successo a qualcuno anzi mi alzate la mano quando vi è successo a qualcuno di voi è mai stato bloccato un account una foto un post per favore mi alzate la mano vabbè non tantissimi ma serio vabbè diciamo che io ricevo centinaia di mail tutti i giorni di gente che mi dice mi hanno bloccato l'accesso il mio post me l'hanno cancellato per violazione delle policy oppure che ricevono truffe scam adesso questo è più facile se non alzate la mano siete solo pigri chi è che ha ricevuto un tentativo di truffa di scam di phishing oh yeah che bravi voi no voi no siete pigri o non avete ricevuti vabbè allora sapete cos'è che mi scrivono in molti ma è possibile che la polizia non faccia niente altro disclaimer collaboro con la polizia però la polizia quindi prima di dire che sono bravissimi vi dico che ci collaboro ma lo sono davvero sono straordinari ma come fanno a bloccare il tentativo di phishing che arriva da uno stato del nord in asia con uno strano dietro che decide lui che cosa fare che vive di quella roba lì cioè di phishing con i nostri soldi e con le criptovalute vanno a finire là come fa? no? e poi forse solo quello il problema la privacy mamma mia ma forse anche solo la privacy non vi sto a tediare con la privacy avete visto prima Neuralink raccoglie dati e ci servono questi dati per far funzionare tutto bellissimo ma la privacy del cervello? no dico perché visto che i dati del mio pensiero vanno a finire da qualche parte e ho capito ma scusate dove li mettono? li si possono rubare? sì ogni giorno rubano una marea di dati recentemente avrete letto sui giornali fughe di dati anche dei nostri di quelli sanitari di quelli sensibili figurati se non ruberanno i dati del nostro cervello e che cosa ne fanno? e allora serve qualcosa che si chiama consapevolezza tu dici che cosa possiamo fare? allora io vi posso dire a livello europeo ma forse anche internazionale sicuramente anche italiano a differenza di altre rivoluzioni che non hanno capito oggi l'hanno capito tutti avete sentito oggi ogni due secondi si diceva intelligenza artificiale a me non dava fastidio va bene parliamo nel più possibile cerchiamo di capire che cosa sta succedendo perché dobbiamo capirlo tutti io nel mio piccolo cerco di farlo in tutti i modi possibili nelle istituzioni dove ho modo di farlo ma fino ad arrivare alla massa grazie a un programma che mi permette di arrivare a milioni di persone perché è un programma di intrattenimento e quindi grazie a quello si arriva a tutti e lì riesce a raggiungere chi distrattamente mentre mangia e si fa una risata riceve anche queste informazioni ma perché se non c'è la nostra consapevolezza chi è che ce la mette dentro chi è che infila il file dell'etica in questo in questo in questa trasformazione nessuno ma nessuno anche perché l'etica come fai a normarla poi quale etica quale etica c'è il MIT Massachusetts Institute of Technology che alcuni di voi conoscono che qualche anno fa non adesso con intelligenza artificiale ha detto facciamo una cosa mettiamo online un sito che si chiama Moral Machine per capire cosa è l'etica e hanno scoperto qualcosa di incredibile cioè che in realtà alcuni sanno ma loro non sono entrati proprio nel dettaglio cioè in questo sito hanno messo una serie di casi possibili se andate adesso cercate Moral Machine su Google lo trovate divertitevi fatelo anche perché contribuite scientificamente a una ricerca importantissima cioè in sostanza la Moral Machine dice la Moral Machine aspetta dov'è che è la Moral Machine perché qua eccolo qua la Moral Machine fa degli esempi come questo cioè dice allora c'è una macchina e questo è il più semplice che si guida da sola che è stata programmata per fare le curve se vede una persona si deve fermare se vede un incidente possibile lo deve evitare ma quando si trova di fronte a questa scelta cioè va a sbattere contro l'albero cioè il software gli dice guarda adesso tu hai di fronte queste tre possibilità vai a sbattere contro l'albero e muore il passeggero uccidi la signora anziana o uccidi il bambino neonato chi uccidi? ognuno di voi ha una risposta forse fatto sta che il mondo non ce l'ha perché hanno scoperto che cosa che si sa ma dico i risultati lo hanno confermato che ad esempio in Asia si tende a salvare la signora più anziana ne in occidente si intende a salvare il bambino e quindi quale etica sapete cosa penso che andrà a finire che ognuno di noi avrà la propria etica ci faranno un test e noi andremo in giro con il nostro file dove dici quando sali in macchina metti dentro l'etica virtualmente poi sarà già pre-registrata così sai già in questo caso cosa deve fare la macchina perché altrimenti è un problema per cui l'etica non è qualcosa che svolazzala in giro è qualcosa di concreto che probabilmente ci metteremo in tasca e ognuno avrà la propria così come gli aspetti religiosi no c'è chi ognuno poi ha la propria e quindi quelli influenzano l'etica e poi fosse solo questo il punto perché dentro quel minestrone di dati c'è anche l'opera di ingegno di noi umani dobbiamo mettere l'umano al centro e poi brum se voi dite mi fai un un cartone animato che abbia un topolino con delle orecchie viene fuori Mickey Mouse cioè non è che viene fuori un'altra cosa è la sicurezza io collaboro con l'agenzia per la cyber security nazionale e il problema della sicurezza nell'intelligenza artificiale è uno dei più grandi problemi che ci siano oggi perché perché voi sapete già che nel mondo della sicurezza informatica ci sono guerre in corso costanti e quelle che non vedete sono quelle più frequenti cioè tutte le volte che non leggete sul giornale ci hanno attaccato ci hanno portato via ci hanno vuol dire che c'è qualcun altro che ci ha difeso perché gli attacchi sono costanti non si vedono come quelle delle bombe fortunatamente però sono lì e cercano tutti i giorni di spegnere le nostre centrali elettriche di spegnere gli acquedotti di inquinarli di spegnere ospedali di spegnere infrastrutture critiche e c'è chi prova a difenderci e di solito ci riesce abbastanza bene per esempio il perimetro nazionale dell'agenzia per la cyber security ma ognuno di noi è a rischio perché l'intelligenza artificiale ha aumentato esponenzialmente le capacità di attacco di questi sistemi e di là c'è un'altra come tutte le cose c'è chi si difende chi attacca c'è bisogna alimentare la capacità di difesa utilizzando gli stessi strumenti io dico sempre che questo piace un po' anche a come dire a quelli che lavorano nel settore che voglio dire ai vari hackers del mondo digitale compresi quelli che lavorano nella security dalla parte dei buoni perché l'hacker non è solo cattivo l'hacker è un'attitudine è il criminale informatico il cattivo che è un'altra cosa che il più grande la più grande rischio la parte più debole di un sistema informatico è tra la tastiera e la sedia siamo noi nel 99% degli attacchi informatici che vedete che leggete dove viene giù un ospedale intero dove rubano i dati di mezza popolazione c'è stato un umano che ha fatto click perché doveva vincere il nuovo iPhone a soli un euro che mette in paglio la Lidl e non è vero come sapete io di questi purtroppo ne parlo tutti i giorni non sono stupidi quelli che ci cascano sono poco informati e allora bisogna informarli nel nostro lavoro siamo qua apposta quindi cosa significa mettere l'uomo al centro in tutto questo cioè che cosa vuol dire vuol dire che ogni cosa che è progettata che è disegnata in questo mondo digitale dell'intelligenza artificiale deve vogliamo pretendiamo che tenga conto prima di tutto dell'uomo nel settore si dice by design cioè lo progetto già così non ce l'attacco dopo lo progetto già così come si fa? beh fino a quando siamo in democrazia non ce la tolgono perché appunto arrivano a distruggerla con informazioni false beh possiamo scegliere no? c'è chi ti dice votami metto l'uomo al centro nel digitale ha fatto vedere ha fatto va bene c'è chi dice io invece ritengo che non si debba più alimentare o finanziare questo mondo che sono poi no quelli come dire contro le tecnologie in generale purtroppo le invenzioni amici non si possono disinventare non c'è niente da fare non si può tornare indietro non si disinventano e allora l'unica strada è la collaborazione uomo macchina fine è davanti è lì chi non lo capisce chi dice no io voglio rimanere qua perché questo mondo mi fa schifo non rischia davvero di uscire dai percorsi professionali ma a volte anche sociali immagini chissà quanti non so voi ma io conosco un mucchio di persone che ha detto tempo fa ma io non avrò mai un cellulare e dopo un po' ha detto ma io non avrò mai whatsapp e dopo un po' ha detto ma io non pubblicherò mai le mie foto di cosa mangio e dopo un po' invece molti di questi hanno iniziato a farlo e allora perché? perché appunto non se ne può più fare a meno bisogna solo conoscerla è brutto è faticoso è come dire svegliati che presto la mattina una sveglia alzati nessuna voglia chi ha che ha voglia però è lì il problema è lì devi affrontarlo e come lo affrontiamo? ognuno di voi cosa può fare? innanzitutto esserne consapevole sapere che vuole e desidera questo sembra stupido ma è centrale è centrale poi lasciamo che i nostri rappresentanti facciano del loro meglio perché quello che vogliamo è l'uomo aumentato l'uomo che utilizza a suo vantaggio e a vantaggio della società le tecnologie digitali io su questo faccio sempre vedere una vignetta che mi piace da morire che è questa che dice guardate questo arriva con la ruota che sappiamo quanto è utile oggi e loro che giustamente sono pieni di problemi dicono guarda ascolta lascia stare siamo troppo impegnati e noi che sappiamo la differenza guardiamo e diciamo ma 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 era ovvio lo so che sei nei guai ma prima prendi la ruota poi vai più veloce e oggi molte aziende molte persone fanno fatica a prendere quella ruota perché siamo tutti pieni di problemi siamo tutti pieni di difficoltà eccetera però dobbiamo farlo non so se quello era più un applauso o più uno sbadiglio però era un applauso vero? esatto meno male meno male ho scritto un libro non si diventa ricchi con questi libri si diventa ricchi che orino romanzi al massimo quando sei fortunato però qui dentro ho messo edito solo 24 ore molto di questo ho cercato di approfondire un libro che possono leggere tutti questa era la parte come dire che forse non tanto il libro dico ma il cyber umanesimo inteso come filosofia è forse quella che io ritengo si debba adottare per affrontare arrivare ad un futuro nel modo corretto grazie a tutti grazie grazie a Marco Camisani Calzolari grazie l'avevo detto che un po' ci avresti fatto trimare i polsi grazie ancora